Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove ASICS Gel Trabuco 11, una scarpa che vi assicura mi è piaciuta tantissimo, ha un prezzo addirittura abbastanza basso. Io vi consiglio di guardare questa recensione perché vi assicuro che è una scarpa assolutamente da prendere in considerazione per i vostri trail, ma vediamo nei pregi di fretti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito a parlare delle caratteristiche di questa ASICS Gel Trabuco 11, iniziando dalla suola, poi troviamo una suola modello ASICS Grip, per quanto riguarda l'intersuola troviamo un nuovo intersuola in materiale FF Blast con un'altezza di 28 mm sull'avampiede e 36 mm sul tallone, quindi un drop 8. Per quanto riguarda poi l'atomaia, un'atomaia in mesh che poi vediamo come performa, è a livello di peso nella taglia 42, queste nuove Trabuco 11 pesano 300 grammi. Dette le caratteristiche, vediamo nei pregi e difetti. Iniziamo come al solito parlando della suola. Qui troviamo la suola che ormai ASICS utilizza a diversi anni, ovvero la loro ASICS Grip. Come sapete, se avete già visto altre mie recensioni di ASICS, questa suola a me piace tantissimo. È una suola che ha un grip fenomenale, sia per quanto riguarda tutta la parte di asciutto, che lì non ha nessun problema, ma soprattutto anche per tutto quello che è il bagnato. Vi assicuro che questa suola tiene benissimo su fango, su roccia bagnata. È una certezza, davvero. Questa suola possiamo utilizzarla ovunque e tiene praticamente quasi dappertutto. Unica nota che però ci tengo a sottolineare è che è una suola molto morbida. Anche al tatto lo sentite subito che è molto morbida. E questo sicuramente vuol dire che a lungo andare andrà a deteriorarsi molto velocemente. Secondo me con questa scarpa diciamo che se riuscite ad arrivarci a 600 km è già tanto. Passiamo a parlare dell'intersuola, che è dove cambia questa nuova Trabuco 11 rispetto al modello 10 dell'anno scorso. Qui troviamo un nuovo intersuola in materiale FF Blast, che è diciamo il medio di gamma di casa Axix. È sicuramente quello con miglior compromesso tra ammortizzazione e reattività. Per intenderci, quando andrete a comprare questa scarpa e la metterete ai piedi, vi sembrerà una scarpa abbastanza secca e dura. Questa caratteristica però andrà pian piano a sparire, nel senso che a lungo andare la sensazione tenderà a essere molto più di una scarpa soffice. Diciamo che lo spartiacque possiamo vederlo attorno ai 100 km. Ma questo è proprio a livello di sensazione, perché per quanto riguarda invece l'amortizzazione, potreste prenderla e farci una 50 km appena la comprate e non avreste nessun tipo di problema. L'amortizzazione è veramente buona. Come vi dicevo, l'altezza è di 28 mm sull'avampiene 36 mm sul tallone, è stata addirittura aumentata rispetto al modello 10 dell'anno scorso, quindi più amortizzazione, ed è migliorata tanto anche la reattività. Con questa scarpa io ci ho corso addirittura anche a 4 km in tratti pianeggianti e davvero rispondeva benissimo. Ma perché si chiama ancora gel tra buco se abbiamo l'FF Blast come Intersuola? Perché comunque troviamo una parte di gel posta nel tallone di questa scarpa che ci aiuta a ridurre gli impatti per tutte quelle persone che corrono di tallone. E vi assicuro comunque funziona molto molto bene, soprattutto quando andiamo magari su un terreno particolarmente duro. E sempre nell'intersuola troviamo anche un rock protettivo per quanto riguarda le rocce e questo ci aiuta tanto nei tratti più tecnici per far sì che le rocce taglienti non vadano a darci fastidio alla pianta del piede. Quindi in generale che dire un'intersuola veramente completo. Saliamo, continuiamo e arriviamo a parlare della parte superiore di tutta la tomaia, iniziando dal puntale. Qui troviamo un puntale abbastanza strutturato, è bello duro, per intenderci un puntale che se prendiamo contro qualche roccia non ci faremo assolutamente male. Mi piace poi tutta la parte di tessuto bello rigido messo sulla parte attorno al puntale perché questo ne garantisce una vita più lunga a tutta la tomaia per evitare strappi. E proprio per quanto riguarda la tomaia, tutta la parte traspirante inizia dall'avampiede fino al tallone. La traspirabilità è veramente buona. Io l'ho utilizzata in delle giornate molto calde e vi assicuro che come scarpa va decisamente bene. Utilizzandola anche secondo me in periodi come può essere l'estate sotto temperature abbastanza calde. Sicuramente con questa scarpa suderete poco. Continuiamo prima a parlare del tallone, un tallone molto classico, quindi ben strutturato nella parte inferiore che pian piano va a destrutturarsi, pian piano che saliamo verso la parte superiore del tallone e lavora molto molto bene. È una scarpa molto stabile, nonostante magari abbia questi tre centimetri di intersuola è decisamente molto stabile. E il tallone vi assicuro lavora molto bene. Io non ho mai rischiato di prendermi una storta in nessun momento, neanche su terreni particolarmente tecnici, quindi scarpa che non ha sicuramente problemi di stabilità. Per quanto riguarda linguetta e lacci, linguetta molto classica, imbottita, davvero una linguetta super classica che comunque funziona molto bene perché resta ferma, e isola bene dalla pressione dei lacci. Per quanto riguarda i lacci, anche loro sono molto classici, hanno una sezione piatta, funzionano bene. Mi piace molto che sulla parte dei lacci ci sia anche un elastico, devo andare a richiuderli per evitare che vado nella destra e sinistra, quindi anche parte dei lacci studiata bene. Per quanto riguarda la calzata, allora questa possiamo dire che è praticamente uguale al modello dell'anno scorso del Trabuco 10, quindi se delle Trabuco 10 avete preso il vostro numero, con questo potete prendere lo stesso. Sempre con quanto riguarda la calzata, tutta la parte di Tomai e lacci fa sì che poi la calzata sia molto precisa, sia molto stretta, in generale poi anche il passo sarà molto preciso. E per quanto riguarda la parte dell'avampiede, la grandezza dell'avampiede, non sono scarpe wide, sicuramente no, però comunque il piede ha la possibilità di espandersi senza tanti problemi, cioè sono già pensate che se voi andate a correre su lunghe distanze il piede tenderà ad allargarsi e non vi creerà nessun tipo di pressione. Per che tipo di runner consiglio questa scarpa? Secondo me può andar bene davvero per tutti, dall'atleta che magari ha appena iniziato a fare trail, quindi che magari cammina tanto e questa scarpa secondo me potrebbe andare bene anche per il trekking senza tanti problemi, al runner più esperto, più evoluto, che comunque vuole una scarpa magari per fare i lunghi, per fare gare molto lunga e protettiva, un runner che magari corre anche molto velocemente in tratti in pianura, quindi secondo me è un po' per tutti. E su che tipi di terreno la userei? Anche lì, secondo me va bene un po' su tutti i tipi di terreno, perché può andar bene sia dalle strade bianche, perché ci dà modo con la sua reattività di poter spingere, sia magari anche a punti tecnici in alta montagna, perché comunque trovando la protezione della roccia nell'avampiede ed essendo una scarpa molto stabile, anche lì ci aiuterà. Secondo me questa scarpa va veramente molto bene per quelle gare che magari iniziano nei paesi fondovalle, poi si fa tutta la parte di sterrato, tutta la parte di single track fino ad arrivare ad alta quota, magari ad alta quota passiamo per dei ghiaioni, per delle rocce eccetera, per poi riscendere nel fondovalle. Ci sono tantissime gare in Italia che sono fatte così e sicuramente questa scarpa in quel tipo di terreno veramente vi può aiutare molto. Detto ciò arriviamo alle conclusioni per queste ASICS Geltrabuco 11. Ve le consiglio? Beh direi che l'avete capito, a me sono piaciute tanto quindi ve le consiglio. Ve le consiglio soprattutto anche per il prezzo, perché vengono vendute da ASICS a 160 euro sul loro sito ufficiale. Online le si trova a 130, considerato comunque che al momento che sto girando questa recensione sono uscite da poche settimane, quindi probabilmente più passerà il tempo più il prezzo tenderà a scendere. Quindi io ve le consiglio davvero tanto. Secondo me questa è una scarpa papabile per essere una delle migliori di questo 2023, perché veramente va a coprire un sacco di esigenze, può andar bene per un sacco di runner. Tanta tecnologia a un prezzo comunque non esagerato. Detto ciò ragazzi, in una speranza di essere stato esaurante il suo stivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!